La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson & Johnson e il terzo vaccino anti-Covid approvato negli States dopo quelli di Fights, BioNTech e Moderna. L'agenzia degli Stati Uniti ha constatato che il vaccino prodotto dalla compagnia statunitense è altamente efficace nel prevenire le formi gravi di Covid-19, incluse quelle derivanti dalle nuove varianti. L'efficacia elevata a media è stata del 72% negli Stati Uniti e 64% in Sudafrica, 7 punti percentuali in più rispetto a una precedente rilevazione di gennaio. Contro le forme più gravi di Covid-19, la percentuale di efficacia è invece risultata dell'86% negli Stati Uniti e 82% in Sudafrica, dove da alcuni mesi si è diffusa una variante del coronavirus che sembra essere più contagiosa. La percentuale di efficacia rilevata sono inferiori rispetto a quelli di altri produttori, ma il vaccino di Johnson & Johnson è il primo vaccino a una sola dose a essere autorizzato, diversamente dagli altri approvati, finora che prevedono due iniezioni. Inoltre può essere conservato a temperatura di frigorifero tra i 2 e gli 8 gradi centigradi.